benvenuto a reggio emilia al campo volo carico carissimo ottimo hai scelto tu allora sarai sicuramente carico di solito così è più quando lo regalano che uno un po' anticipante ok un po pilotato mettiamola così senti hai capito tutto quello che andiamo a fare ottimo bravissimo allora dopo ti interroghiamo l'importante che sia chiaro se hai qualche dubbio puoi chiedere a lorenzo che è sempre disponibile senti io sarò davanti a te per tutto il tempo della caduta libera video foto cerca di guardarmi no no devi guardarmi no io sono io vedi che lui c'è la nero ma tanto ci sarà solo io davanti a te quindi tu guarda me e poi dopo una volta vela aperta puoi guardar giù a fare fatto ottimo allora ti lascio con lorenzo che finisce di imbragarti noi ci vediamo tra cinque minuti che andiamo ciao grazie ciao a te ok ci andiamo eccoci grazie 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 bellissimo altra Ansia proprio! Un altro round? Bravo! Sì! Vai, vai! Allora, ascolta!